ciao a tutti un video un po scoperto perché io questa questa marca di prodotti non la conoscevo e vi volevo far vedere il volantino comunque si chiama led ilia biologica certificata made in italy la lilia bionetto in italy bellezza naturale io l'avevo trovata una profumeria che adesso purtroppo ha chiuso quindi non so dove reperirla però è composta di qualche prodottino ad esempio abbiamo matite occhi ma dite labbra un matitone occhi e labbra matitoni correttori mascara crema mascare in crema maschera volume mi faccio lo zoom se riesco forse lo vedete meglio abbiamo tutti i prodotti per le unghie curatore tre in uno curativo indurente curativo vitaminico curativo top coat trasparenti e qui abbiamo tutti quelli colorati smalti colorati e abbiamo un farde compatto in tre tonalità rossetti in 10 tonalità cipria compatto in tre tonalità e fondotinta fluido in tre tonalità io l'avevo trovata in un piccolo stand in quella in questa in questa profumeria che purtroppo ha chiuso e non so dove poterla reperire non so neanche se hanno un rivenditore comunque allora l'edilia biologica made in italy fino al 25 per cento tre minuti naturali di oggi natura e biologica bello me 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.